In un lungo posto su Facebook la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attacca la sentenza di Catania. Sono rimasta basita, scrive, di fronte alla sentenza del giudice, che con motivazioni incredibili rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente l'Agnunissia paese non sicuro e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto. Non è la prima volta che accade, ma continueremo a difendere i confini. Meloni spiega che l'azione del governo per fronteggiare la migrazione illegale è un lavoro difficile, certo, ma che può portare a risultati concreti, con pazienza e determinazione. Tutto diventa molto più difficile, scrive ancora, se nel frattempo altri stati lavorano nella direzione diametralmente opposta e se perfino un pezzo d'Italia fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale. E non parlo solo della sinistra ideologizzata e del circuito che ha i propri ricchi interessi e l'accoglienza. Siamo di fronte, sottolinea, ad una pressione migratoria senza precedenti dovute all'instabilità di vaste aree dell'Africa e del Medio Oriente. Il governo italiano lavora ogni giorno per fronteggiare questa situazione e contrastare l'immigrazione illegale di massa.